Mistral Air questa mattina presenta le nuove rotte estive qui all'aeroporto di Cagliari Elmas. Quali saranno le principali novità? Mistral Air oggi presenteremo un nuovo network da Cagliari che collegheremo principalmente l'isola da Cagliari su Firenze, Pescara e Perugia. I voli da Perugia sono una ripetizione del scorso anno, mentre il Cagliari che opereremo 5 volte a settimana tutto l'anno diventa giornaliero nel picco d'estate. Su Pescara sono voli che inizieranno da metà giugno due volte a settimana e anche Pescara aumenterà con una terza frequenza luglio ed agosto. Per Mistral Air è un'avventura di original nuova perché è conosciuto come un vettore charter principalmente. Negli ultimi dieci anni Mistral è stato sempre una delle principali compagnie charter, ma con questa nuova iniziativa entreremo nel mondo linea. I voli saranno distribuiti tramite il nostro sito web e tutti i canali di agenzie di viaggi. Abbiamo messo in piedi un call center che è nuovo e speriamo che le rotte vanno oltre l'estate. Certo, l'auspicio, l'augurio è quello di proseguire anche ad esempio con la stagione invernale, quindi un sodalizio con l'aeroporto di Elmas. Sì, stiamo collaborando con le ente nazionali, con i tour operator e anche con gli alberghieri per creare un business che diventa più che estivo ma anche una meta annuale.